Siamo usciti a testa alta, anzi, a testa altissima, e ora continuiamo a prepararci al massimo come stiamo facendo da inizio stagione ad oggi. Bravo! Stavo con i migliori in campo. Peccato però. Ora gli puoi dare 10 euro. In caso che mi sceglieva di prima offerta, come se non ero sofferto? Adesso ti faccio vedere io.